Samo, altro gol e soprattutto arriva una vittoria importantissima. Che cosa vi siete detti in questa settimana e quanto era importante portare a casa questi tre punti? Era fondamentale portare questi tre punti a casa perché era una settimana difficile, ma siamo stati bravi, ci siamo compattati. Forse abbiamo capito da che parte dobbiamo rimanere tutti insieme e questi punti sono fondamentali per ripartire. Mercodì ci affronta un'altra grande partita, ma siamo pronti a fare risultato. Ma sai, abbiamo parlato in settimana che nell'altro modulo, soprattutto le due partite, mi marcavano in tre o quattro uomini, quindi per me era un po' più difficile. Invece oggi con i due o tre partisti vicini mi muovevano un po' le difese e per me ho più spazi liberi. Per quanto riguarda sempre l'aspetto tecnico, preferisci giocare ad una punta con due esterni oppure preferiresti avere qualcuno accanto con cui dialogare anche in determinate partite in cui magari è più difficile perché hai tanti difensori addosso. Ma sai, io ho sempre giocato in carriera da solo, raramente ho giocato un'altra punta. Un po' a Perugia, ma mi giocavo come trequartista. Io ho bisogno di stare assolto in aria, come l'attacco alla porta, così non ho bisogno di rompimenti di scato, scuola di francesismo, insomma, che mi magari un po' sciupa qualche movimento e quindi preferisco giocare così.